e benvenuti a tutti amici cripto curiosi abbiamo una notiziona che vanek ha dichiarato che bitcoin entro il 2005 aprite bene le orecchie possa arrivare a quasi 3 milioni di dollari quindi ragazzi per chi sarà ancora vivo per chi detiene bitcoin e chi sarà ancora vivo per quegli anni ragazzi sappiate che vi potete comprare qualche isola con qualche billetta con la spa e la piscina quindi ragazzi ok previsioni comunque sia che dopo andremo a vedere sull'articolo abbiamo visto una ripresa per bitcoin ragazzi e tutto il settore delle altcoin ci sono alcune altcoin che hanno performato di più alcune di meno come anche render più 15 per cento d'ora ave abbiamo anche altri asset meme quant'altro tanti gridano è l'ultima occasione sta iniziando l'artcoin season è il momento adatte quant'altro ma come sempre ragazzi dobbiamo fare attenzione e dobbiamo effettivamente vedere quello che sta succedendo anche nei grafici perché poi di notizie ragazzi ne corrono a bizzeffe per farci naturalmente per creare confusione ok quindi in sostanza andiamo un pochettino effettivamente a vedere che cosa sta succedendo nel mondo cripto quindi bitcoin più 67 mila dollari abbiamo recuperato quei famosi 67 mila dollari di qualche giorno fa che da quel momento in poi bitcoin è sceso comunque sia anche fino a ritoccare le soie dei 63 barra 62 mila dollari ethereum etf ragazzi un pochettino un flop perché ci sono stati degli outflow importanti anche nella giornata di ieri e molti si stanno chiedendo se effettivamente questi ethereum questi etf su ethereum in sostanza possono far bene al reparto al coin a ethereum stesso quindi andiamo un pochettino a vedere quello che sta succedendo oggi sulle cripto andiamo a vedere anche solana perché ragazzi solana effettivamente sta a bomba ok ci sono delle notizie molto bullish notizie di possibili anche tf spot su solana analisti che prevedono rally di solana fino a un gain del 900 per cento ragazzi detto ciò voglio anche sapere da voi qual è il vostro sentiment su solana e poi andremo a vedere anche caspa ragazzi che sta comunque sia mantenendo quella soia dello 0,18 centesimi di dollari andiamo a vedere subito prima di iniziare ragazzi come sempre vi lascio tutti i link in descrizione questa è la situazione per oggi ragazzi vediamo helium brett molti ma molti effettivamente asset nel mondo delle cripto allute hanno acquistato dei gain importanti nella giornata di oggi inoltre in descrizione ragazzi vi lascio il link di tap bit che è un exchange senza casey quindi si può utilizzare senza andare a fare il casey e abbiamo anche una promo effettivamente importante fino al 2 agosto ovvero possiamo ricevere fino a 1320 dollari di bonus completamente in modo gratuita naturalmente abbiamo il 30 per cento sul primo deposito e abbiamo anche diciamo alcuni airdrop in casse altri airdrop in usdt se facciamo dei movimenti e delle transazioni superiore a questi importi vi lascio tutto nella mia community youtube ragazzi quindi molto 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 effettivamente molto bene giornata molto positiva andiamo a vedere le liquidazioni che sono aumentate naturalmente siamo oltre diciamo comunque sia di circa 200 milioni di dollari comunque sia ethereum è quello che ha registrato più liquidazioni 73 milioni di dollari ad ora poi abbiamo bitcoin quasi 54 milioni di dollari ad ora altri asset 16 milioni solana quasi 9 milioni poi abbiamo xrp mev pepe e quant'altro anche perché mev ragazzi diciamo che nella settimana ancora in top ancora in testa centesima posizione un più 84 per cento ad ora poi abbiamo helium più il 22 per cento nel settimanale poi abbiamo altri asset naturalmente importanti che stiamo visionando solana il più 10 per cento popcat su solana il die oltre il 10 per cento quindi anche il reparto meme ha risentito della giornata di oggi quindi bitcoin ragazzi effettivamente nelle ultime 24 ore un più 4,71 per cento molto ma molto buono market cap più 4 per cento volumi pressoché rimasti invariati rispetto alla giornata di ieri ragazzi vedete nel settimanale eravamo andati a testare queste zone 64 mila ok all'incirca 64 mila 63 mila quindi molto importante perché effettivamente il prezzo ha rimbalzato come possiamo ben vedere anche qui sul grafico andiamo a vederlo subito il prezzo ha rimbalzato ragazzi quindi cambiando un pochettino quello che era il trend qui avevamo naturalmente questa evening star che ci poteva diciamo effettivamente qui c'era un entry point interessante anche perché il prezzo è andato poi a superare questa zona di di supporto precedente su questa candela ragazzi ovvero zone di 64 mila quindi naturalmente qui il prezzo ad ora ha rimbalzato con volumi anche abbastanza interessanti formando questo è proprio un hammer quindi in sostanza potrebbe verificarsi effettivamente un un cambio trend ok oppure potrebbe naturalmente essere un fake out in sostanza quindi ragazzi qui naturalmente tutti hanno chiamato anche bear trap poteva anche essere comunque sia amici qui come dicevamo prima le soglie di 64 questo diciamo di 64 il prezzo ci è arrivato quindi naturalmente per chi fa trading con la testa un rapporto 1 a 2 naturalmente questo era un entry point quello della giornata del 23 interessante allora ecco bitcoin sta facendo questo non ci dimentichiamo che comunque sia stocastica stiamo in zone di percomprato zone 80 siamo scesi un pochettino e sembra sembra effettivamente che le due medie ad ora vogliono ricrociare però non abbiamo un segnale chiaro a questo punto ok quindi bisogna andare a vedere se ora bitcoin può andare effettivamente a testare le zone di 70 mila dollari ok quindi potrebbe succedere naturalmente oppure potrebbe anche lateralizzare oppure fare un falso cambio trend e staremo a vedere rsi zona 62 andiamo alle notizie importanti perché vanek afferma che bitcoin potrebbe raggiungere i 2,9 milioni per moneta entro il 2050 il report aggiunge che i layer 2 di bitcoin potrebbero aggiungere un valore complessivo di circa 7,6 miliardi di dollari e che cosa è stato detto ipotizzabile che entro il 2050 bitcoin possa essere utilizzato per regolare il 10 per cento del commercio internazionale mondiale il 5 per cento del commercio interno ha dichiarato vanek nel report nel report ok questo scenario potrebbe porterebbe le banche centrali a detenere 2,5 per cento dei loro asset in bitcoin vanek aggiunge che le soluzioni di skyling per la rete blockchain di bitcoin ovvero il bitcoin layer 2 potrebbero valere collettivamente circa 7,6 miliardi di dollari ovvero il 12 per cento del valore totale di bitcoin in particolare riteniamo che i problemi di scalabilità del bitcoin che sono il principale ostacolo alla sua adozione diffusa saranno risolti dalle soluzioni emergenti di bitcoin layer 2 si legge nel report detto ciò andiamo avanti abbiamo notizia della conferenza bitcoin 2024 a nashville ava trump come protagonista lo sappiamo benissimo nella giornata del 27 quindi nella giornata domani barra dopo domani la conferenza bitcoin iniziata al music city center di nashville nel tenancy si tratta di un evento di tre giorni che ha come tema bitcoin e che ospita personaggi di spicco come leader del settore cripto appassionati e figure politiche di rilievo tra i più attesi c'è l'ex presidente e ex detrattore di bitcoin donald trump che parlerà sabato insieme ad altre figure politiche cercando di promuovere il suo rebranding come presidente cripto prima delle elezioni se andiamo a vedere inflow di sui etf più che altro diciamo giornata stabile rispetto anche a ieri stiamo parlando di 31 milioni di dollari in totale giornata dell'altro ieri 44,5 milioni ragazzi veniamo da un periodo di inflow pazzeschi pazzeschi sui etf riguardante bitcoin